Ultimo aggiornamento di oggi con Muoversi in Toscana, ben trovati da Mauro Ciutini. Traffico rallentato sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'allacciamento A1 e Ginestra-Fiorentina in direzione Livorno. Code anche in A11 tra Prato-Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla Statale 1, la via Aurelia, un tratto è chiuso dopo un incidente tra l'incrocio Orbetello-Scalo e l'incrocio alla stazione di Albinia. Veniamo in A1, code per traffico intenso a Firenze-Sud in uscita provenendo da Bologna. Ricordo in A11 da stasera alle 22 fino alle 6 di domani chiusa la stazione di Prato-Est sia in entrata che in uscita. In chiusura uno sguardo al tempo per chi viaggia in Toscana domani, variabile con rovesci sparsi e isolati temporali più probabili sulla costa in mattinata. Sulle zone interne nel pomeriggio muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, città metropolitana di Firenze. Il Comune di Firenze, buona serata, buon viaggio.